Quella di domani dovrebbe essere la giornata giusta per conoscere il nome del nuovo allenatore del Pescara. Fra Oddo, Di Biaggio, Pecchi e Sottili, dirigenti biancazzurri sceglieranno colui che guiderà la squadra nel prossimo campionato. Massimo Oddo resta il favorito ma tutte le soluzioni sono possibili. Il presidente Daniele Sebastiani e due direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, dopo gli errori commessi nella passata stagione, non vogliono e non possono permettersi passi falsi. Meglio allora prendersi qualche ora in più prima della fumata bianca. Sulle fronte societario, questa mattina attraverso una nota stampa, Stefano Pessina ha smentito categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche circa un suo presunto interessamento per l'acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. Pessina si spiega nella nota non ha mai considerato un simile investimento né intende valutarlo in futuro. Sul mercato la società biancazzurra inizierà ad operare ufficialmente il primo settembre e comunque dopo la firma del nuovo tecnico. Ci sarà in primis da sfoltire un organico che conta oltre 30 giocatori. Intanto il Pescara ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali e tramite il suo responsabile sanitario, il dottor Vincenzo Salini, che Ledyan Memuschai è stato sottoposto ad un intervento programmato al ginocchio con infiltrazioni di cellule staminali. L'intervento perfettamente riuscito è stato eseguito presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il giocatore nei prossimi giorni sarà dimesso e si prevede il recupero nell'ambito di una decina di giorni. Memuschai, 34 anni, centrocampista della nazionale albanese, è stato uno degli artefici della salvezza del Pescara in Serie B dopo i play-out con il Perugia.